Amiche e amici, ben trovati al nostro podcast che fa il focus sui fatti di cronaca più importanti degli ultimi giorni. E tra questi, in questi momenti, non possiamo che non parlare del caro benzina, una situazione che più o meno direttamente sta riguardando tutti. Hanno fatto il giro dei social, tanto le lunghe fighe ai distributori di qualche giorno fa per il timore dei mancati approvvigionamenti, che poi le immagini che riproducevano il costo dei carburanti nelle stazioni di servizio sull'autostrada, piuttosto che nei punti più periferici delle nostre città. Di fatto, tanto il diesel che la benzina hanno superato è di molto la soglia, chiamiamola psicologica, dei 2 euro al litro, un'impennata dei prezzi di fatto causata per certi aspetti, sicuramente dalla guerra in corso tra Russia ed Ucraina, ma non solo. Perché? Perché notizie di questi giorni che il prezzo del petrolio si è calato sotto un'altra soglia psicologica, quella dei 100 dollari al barile. Questo perché alcuni dei paesi che più di altri consumano petrolio, tra questi la Cina per esempio, che sta affrontando una ondata di Covid che mette in discussione. La sua economia a causa dei forti lockdown che sono stati imposti alla popolazione per cercare di tenere sotto controllo il virus, chiaramente comporta una forte riduzione del consumo di carburanti e ovviamente calando il consumo cala la domanda. E come sempre accade appunto per tenere sotto controllo questo andamento vengono abbassati anche i prezzi. E quindi la domanda che gira sui social è sempre la stessa. Perché quando c'è un aumento del prezzo del petrolio il prezzo al distributore aumenta di conseguenza e viceversa quando c'è una diminuzione del prezzo della materia prima non c'è una corrispondente diminuzione del prezzo alla pompa. I motivi sono ovviamente tanti, si parla di speculazione, qualche di uno fa notare che sul costo dei carburanti paghiamo tasse, paghiamo accise che addirittura vanno a coprire le spese che il governo ha sopportato dalla guerra della Bissinia alla strage del Vajont, qualche di un altro fa notare che in maniera incostituzionale paghiamo tassa sulla tassa perché sulle accise viene calcolata anche l'IVA. Insomma il discorso è chiaramente lungo e complesso. Di fatto si sta cercando di porre rimedio a questa questione. In questi giorni il governo sta pensando a un provvedimento che possa in qualche modo far fronte al caro dell'energia sotto tutti gli aspetti, quindi sia un intervento sulle bollette per la fornitura di energia elettrica e gas, anche in questo caso direttamente legate agli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, più di qualche d'uno l'aumento a bollette addirittura triplicate per quanto riguarda l'energia elettrica e i gas. E dall'altra parte appunto il governo prevede un intervento sui carburanti, si parla di una riduzione che può riguardare circa 15-20 centesimi al litro, poca roba per qualche d'uno, comunque è un 10 per cento secondo altri e quindi potrebbe essere comunque un primo intervento. Il ministro Cingolanni giorni scorsi ha esplicitamente parlato di speculazione e più di qualche d'uno suggerisce che si può intervenire andando a toccare quelli che sono i guadagni e i profitti delle aziende che stanno in qualche modo sicuramente guadagnando molto su questi rincari. Ovviamente è tutto in discussione in questi giorni e di fatto ciascuno di noi più o meno direttamente si trova ad essere colpito da questi aumenti. Tanto gli automobilisti che devono muoversi per lavoro, tanto ancora di più gli autotrasportatori che nei giorni scorsi hanno minacciato e in qualche caso attuato una sorta di sciopero perché diventa assolutamente non più conveniente viaggiare e trasportare merci alle tariffe che erano state stabilite anche solo pochi giorni fa e questo ovviamente comporta la difficoltà di approvvigionamento per supermercati ma anche per strutture e per negozi di ancora maggiore interesse come può essere una farmacia che vedono appunto a volte messe in discussione la puntualità degli approvvigionamenti. Diciamolo subito in realtà questo problema di fatto non c'è nel senso che ovviamente le merci di prima necessità vengono garantite ma è evidente che, passaparola sui social, il timore di qualche d'uno che portano a voler fare una scorta eccessiva di medicine piuttosto che di pasta o di farina porta a un consumo chiamiamolo così anomalo. Si iniziano a vedere gli scaffali di supermercati vuoti la gente si preoccupa e si innesca un circolo vizioso che porta ad ancora maggiori accumuli. Non sappiamo che cosa succederà in questi giorni sicuramente l'arrivo della primavera diminuirà i consumi per quello che riguarda il riscaldamento. Dall'altra parte purtroppo i trasporti italiani sono principalmente basati sulla gomma e quindi il consumo di carburante c'è ed è difficile pensare di poterlo ridurre a breve in così poco tempo e senza interventi strutturali. Consigli banali ma sempre validi i classici consigli della nonna secondo qualche d'uno beh ovviamente usare l'autovettura solo in caso di necessità, preferire dove sono presenti i trasporti pubblici specialmente nell'ambito degli spostamenti urbani. Ancora più banalmente ma ancora più interessante in questo momento controllare quelli che sono i prezzi prima di fare rifornimento, valutare tra i vari distributori disponibili quello che fa l'offerta migliore e secondo qualche d'uno addirittura evitare per il momento di fare il pieno e provvedere con dei rifornimenti più o meno quotidiani in attesa che appunto il prezzo venga a ridursi. Vedremo che cosa succederà in questi giorni soprattutto quali saranno le decisioni del governo e delle varie authority che sono addette appunto al controllo dei prezzi e alla tutela dei consumatori, ve ne daremo conto se ci saranno da vita nei nostri prossimi appuntamenti, intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al nostro prossimo podcast. alla prossima